Sono Emanuele Bonanomi, titolare di Team Beauty. La nostra azienda, che progetta e produce packaging 100% made in Italy per l'industria cosmetica, sarà presente alla sesta edizione del Polo Innovation Day. Presenteremo alcune delle nostre principali collezioni e nuovi packaging con finish e materiali innovativi. Venite a trovarci giovedì 12 ottobre presso Showroom Autotorino di Crema. Vi aspettiamo!